L'elmo Accidenti a quell'elmo! Presto diventerò imperatore della Cina. Ora basta con questa storia! Ehi, la! Pignolli! Oh, no! Non preoccuparti, principessa. Ti aiuteremo. No! No! Sono qua. Ai, 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 ai! Carica! Carica! Buonanotte signor, so tutto io Buonanotte signor, ho un nuovo migliore amico Buonanotte signor, mangia verdure Oh che buone le verdure, che buone